Buongiorno a tutti gentile pubblico, volevo ricordare a tutti i presenti che alle ore 21 avrà in occhio le spettacole equestre. Grandi artisti, grandi cavallieri arrivano da tutto il nord Italia per esibirsi di mangi ai vostri occhi e naturalmente strappare i vostri applausi. Ore 21, spettacoli equestre. Volevo ricordare che a tutti gli amici è presente qui con noi il Ranch Colomba Solitaria. Benvenuti alla 63esima edizione della mostra zootecnica di Clusone che fa rima, 63esima edizione. Ancora qualche minuto per dare modo ai nostri tecnici di sistemare l'impianto audio e poi potrete ammirare gli artisti e riscaldare i propri cavalli. Grazie all'organizzazione di questa splendida manifestazione per averci permesso di essere qui con voi. Grazie. Allora, come hai trovato la fiera? Ma è molto seguita, vedo molta gente e tanta roba, ecco. Cosa le piace in particolare? A me piace il potore perché ho sempre stato da giovane, ero un contadino e praticamente tutte le vesti e tutti i settori a me piacciono, dalle galline ai colombi agli animali. Un appuntamento da non perdere. Eh sì, sì, è importante, bello, bello. A me piace, sono qua. Stasera fanno una manifestazione. C'è lo spettacolo. Spettacolo, sono qua. Ciao, hai visto i cavalli? Sì. Come sono? Belli. Ti piacerebbe salire in sella? Sì. Sì. Non hai paura? No. È piaciuta la fiera? Sì, è carina, molto carina, interessante. Ci sono molte cose curiose, ma... Ad esempio cosa in particolare le è piaciute? Allora, a me che piacciono molto sono gli Shire che ci sono là e mi piacerebbe vedere lo spettacolo, è qualcosa di sostanzioso con questi bei cavalloni. Quindi stasera magari non si perde lo spettacolo? Lo salto, sì, stasera sì. Anche domani sperando di vedere magari qualche bancarellina in più. Domani mattina c'è la sfilata? Eh sì, domani vediamo qua vedere anche gli Afflinger o l'Avelinese e vedremo la soddisfazione, il grado di soddisfazione.